signori e signori buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi passo del tonale partiamo da nave quindi coste idro e ledro torniamo da un'altra parte che non ho mai fatto con noi anche il buon roberto che sta arrivando vediamo di divertirci insieme faccia lei da navigatore e cominciamo queste belle coste davanti a noi buon roberto la giornata è bellissima per adesso la giornata è stupenda non mi ricordo mai dov'è l'auto velox delle coste eccolo qua perdendo asfalto prezzo è umido è umido se non è lo spettacolo di strada questa io non so quale possa essere guarda qua che posti ragazzi però la temperatura è irreale ha piovuto stanotte ci saranno 23 24 gradi è bellissimo ma questo punto qua è stupendo la cosa non rendere mai ma è bellissimo mamma mia come era quella cosa che la batteria della gopro si scarica proprio quando ne hai bisogno ecco adesso inizia il pezzo di strada bellissimo che da storo ti porta al lago tedro e la batteria della gopro si era ovviamente scaricata roberto non ha visto che mi son fermato speriamo che non si preoccupi vediamo di andarlo a riprendere gopro io spero che tu stia registrando questa qua è una delle storie più belle del mondo e volevo riprenderla e a 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 Grazie a tutti. Roby con il KTM 3.0, tutto stiloso con tuta, tuta brandizzata Red Bull. Eh, tanta roba. Che bello quando sono gli altri a partire il navigatore. Va che spettacolo. L'edro. Va che spettacolo. Roby se n'è già andato. Cioè io sto qui a mirare le... Ti prego. Roby va. Roby aspettami. L'unico motivo per cui riesco a recuperare perché c'è traffico. Che bella questa strada. Va che roba. Wow. Bello. Oh, Riva. Riva del Garda. Stavo venendo su. Non vedo più Roberto. Dov'è? Ma eccolo qua. Porca vacca. Mi sono spaventato. Vediamo di girare la moto allora. Tutto a posto. Tutto a posto. Che stradine. Bellissime. Che sogno di strada. Che sogno ragazzi. Lago di Tenno. Dove? Lì. Mamma mia. Non è? Azzurro turchese. Di più. Che cosa non è questa strada? Robby se stai guardando questo video ti do il vantaggio. Ti lascio andare perché non mi va di starti sempre addosso e... Non è vero. Che fermone che sono. Però che divertimento. Guarda questo Roberto che le spazzola tutte. Le pennelliamo. Che strade ragazzi. Pinzolo. Il traffico. Ma che spettacolo. Madonna di Campiglio. E tra poco. Tonale. Galleria strana. Con parcheggio annesso. Non ho mai visto una cosa del genere. Ma che spetta col traiano. E siamo arrivati finalmente. Sul passo del tonale. E la cosa bella. Che la strada per arrivare qua è bellissima. Ragazzi. È una delle strade più belle che abbia mai fatto. Oggi guarda. Sta avvenendo fuori una giornata incredibile. Temerare con l'arri. Temerare con l'arri. Sul tonale passo. Ma questo qua. Era giù a cento e lo ha con i bicicletti. Giornata dai. È tutto. Tantissimo traffico oggi. Che figa che è la 3.0 quando frena. Quando pinza che è lampeggio. sali e scendi. Tutti da raccordare. Che divertimento. Che divertimento. Le montagne russe. Galleria. Che brutta. La galleria in curva è orrenda da fare. È una sala giochi. È una sala giochi. Faccio le gallerie che chiudono. Ok. Le gallerie. Sì. Ok. E infatti. Occhio alle gallerie che chiudono. Sì sì certo. E infatti. C'è arrivato? Tornare pass. Mangiamo? Uè 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 polo. Eh. Infatti. Eh lo sapevo. Eh non ci può. Che spettacolo di posto ragazzi. Occhio alle gallerie che stringono. Sì va bene. Subito. Subito. No poi proprio in galleria. Devi fare una curva che chiude. È praticamente un tornante largo. Sì sì sì. Alla fine sì. Ciao signor Roberto. Venga qui a fare la chiusura del video. Siamo al passo del tonale. Finora è stata una giornata bellissima. Strade incredibili. 17 gradi. 17 gradi si sta da dio. Facciamo adesso la chiusura del video perché ovviamente le batterie della GoPro si evaporano. Logicamente perché si consumano in un lampo quindi non riuscirò magari a riprendere tutto. Però adesso Presolana. Presolana. E poi Sarnico. Sarnico a casa. Ok. Ragazzi grazie di tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E buona moto a tutti. Ciao. E' data pausa panino. Scendiamo dal tonale. Che spettacolo con la fria che ti passa sopra. Guardala Roberto. Con il Super Duke. Sono l'ultima batteria. Vedo un po' se staccando adesso riesco a farvi vedere la presolana. Ci vediamo dopo. Il comune cinese di padre Marondo. Ma che spettacolo. No e quando vedo queste cose buone. Vaccherobba. Oh. Cos'è? Una discesa da Bob. Che bagno. No. Lo voglio fare. So che è qui. Adesso so che è qui. No. Bellissimo. No no. Lo voglio fare. Lo voglio fare. Non hai capito. Roby perché sei scappato. Sì. Io ti fermavo. Volevo farlo. E collo sulla tuta da moto. La prossima volta. La prossima volta so che c'è. Com'è? Com'è? Che deve ne fare? Tanto tanto roccia. Eselo. Ciao. Ciao. Sau. Tanto viele. Oh strega una Lamborghini Aventador davanti a noi 12 cilindri aspirato super ignorante 700 cavalli Qualcosa che fa più rumore alle super vie Grazie del giro E' stato bellissimo Lo metto al primo posto dei giri che ho fatto Perché mi è piaciuto veramente tanto